Raider tutto frainteso le mie intenzioni. È arrivato Raider, ragazzi! Chi si manda? Scoppion! Il mio futuro io è morto. Sono qui dietro suo preciso comando. Te lo ha chiesto il gran maestro Asashi. Onoro le sue ultime volontà. Karun traghettirà le vostre armate sull'isola di Kronika. Dobbiamo partire una. Hai qualche prova dell'offerta di Karun? Solo la mia parola. Che non ha alcun valore. Al torneo promettesti di risparmiare B-Han, ma così non è stato. Ho peccato di rabbia. Ora cerco redenzione. Mensogne! Sei solo un servo sotto il comando di Kronika. Fait! E così Scorpion inizia a sfidare Raiden, il dio del tuono. Bene, vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, ragazzi. Mi fa piacere che mi state seguendo un'attenzione con questa spettacolare modalità storia di Mortal Kombat 11. E ricordatevi che siamo a metà strada. Ormai siamo quasi arrivati alla fine. Grazie. Grazie.